Ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte finale di Crash, leader di Cortex, sempre con la mia ragazza Ciao a tutti Oggi dobbiamo fare soltanto il livello 24, 25 e il boss finale E abbiamo finito questa avventura Dimmi Facciamo il 25 prima E facciamo il 25 Giusto per... Vabbè oggi facciamo tutto al contrario, da 25 al 24 al boss E tanto sempre tutti li dobbiamo finire prima del boss Facciamo tutto al contrario, non ci sono proprio E la madonna, quel cosa c'è? Aiuta a scegliere proprio un livello Andiamo? E già sono morto, cantiamo No, sono contattato Non è il contrario il suo livello, ma come lo faccio il suo livello? Cominciamo bene stamattina Sono caduta in quelle cose E come si fa a sto livello? Scusa Devi passare in quel cosilla di... Ho capito, ma non passo A me non ci capisco niente Dico la verità Ma cado sempre nello stesso punto Ma perché al contrario? Guarda Eh, non lo so Cosa? Ma un checkpoint? Sì, va bua che ceccava Ecco il checkpoint Mamma mia, meno male No, ma più avanti è più... comunque... Fino al checkpoint non è difficile la parte in cui usciamo da quelle cose di fuoco Oddio ma qua Ma poi è facile, basta che seguiamo le mele Seguiamo le mele Seguiamo le mele Se lo dice lei Basta che... No, basta che seguiamo le mele Eh, ma io ancora non ho stato un checkpoint Seguiamo le mele Ecco il checkpoint Ma ci sei... eh, ok Qua è facile, non sono morta proprio A parlare don calò Basta che segui la traiettoria delle mele Vedi, è facile È giusto che devi stare? Devi stare e muta perché mi stai facendo sbagliare Si sta già... si sta pure bugando Si guarda, ma che ne so che c'era quella cosa là, dai Ma non si capisce niente Vada, Maxi, no, vabbè Dopo che ho visto questi Ciao, io ti lo sto chiuso Cosa? Ma è impossibile da far... Mi sono trovato Ma se è il sottoscritto Tiger non mi trovo Sono caduta Ma è caduta dal lato Sì, babbune, guarda l'lava, fratice Ma dove sei arrivato? All'altro checkpoint Ok Mamma come goda Mamma come goda Mamma come goda Mamma come goda Ma come si fa? No, ma perché ho... Per scansare quella... Tipo per sbaglio ho saltato da sinistra Se non è caduta Buona cos'è Ho la maschera infinita Che bella Mamma come goda Ho altre maschere, visto che ci sono tipo le casse Adesso è facile Comprire le maschere Puoi... Puoi fare quando vuoi Finito il livello Ho preso pure la gemma Io non l'ho preso Tutte le casse non le ho ratte Perché sinceramente me lo sono voluto proprio togliere dalle palle Il suo livello che non lo sopporto Eh, si inizia al contrario Poi si vedeva un po' male Perché questo emulatore di merda Anzi, questo gioco non riesce a supportare la potenza grafica più alta Andiamo direttamente nel 24 Ma il livello bonus non c'era No Il livello 24 non c'era il livello bonus Strano, eh? Il primo livello di crash che non ha il livello bonus Sei stato un ragazzaccio Vero Ma adesso basta Infatti io pensavo che ho detto Ma qua non ho visto io il bonus sicuramente Crash Sei stato un ragazzaccio Entrando nel 24 Sono già entrato nel 24 io Avanti Cristo Pure questo al contrario No, vabbè, ma perché mi devono fare questo? Ma perché gli ultimi livelli devono essere così? Eh, vabbè, è già morto Vabbè, tanto ti devi arrampicare qui Lo capita, ma al contrario io non vedo niente Tu vedi qualcosa? Eh, eh, e sorridi Che cazzo mi ridi? Guarda, guarda, guarda E ride Ma chi? Crash Mi prende per il culo Guardalo No Vabbè, avete fatto Che avanti c'è una cassa di quella delle Dove devi saltare cinque volte per rompere le mele Ho saltato dietro e sono caduto Oh signora Ma non gioca più su niente Signora mia Ma perché al contrario? Non ha senso Ma secondo me è un po' che un tratto Poi dopo sia giusto Non lo so Questa sensazione Questa sensazione Secondo me si è No, no, no No, no, no Questo è troppo Questo è troppo Finché su Dopo che arrivi là Poi è normale il livello Quindi è facile E poi dopo E ma come cazzo faccio qua? Dove devo andare? Dove? Ah, pure questo c'è Deve andare a destra Devi aspettare che Deve andare a destra Vabbè, io questo Questo mi fa venire la febbre a me Basta che superi quei tre cose Dove ci devi saltare sopra Che si drizzano E c'è il checkpoint Si, si, si Ho capito E dov'è qua il punto escamativo? Scusa Checkpoint bonus Cioè il bonus insieme al checkpoint Non l'ho mai visto Una roba del genere E infatti Ma io qua non lo vedo Il coso quello No, ho perso Vabbè, tenda il bonus Come non so Eh, va buono Va a fulano Gesù Min E te Ok Bonus superato Solo con le cassa di litro E' più difficile Sennò per il resto è facile No, vabbè Non puoi capire È difficile C'è quel robottino avanti Te lo ricordi quando Cresci si doveva mettere Nel robottino Che poi si Si bloccava tutto Riparte Io Bonus non lo faccio Ma non lo fa Non ti freghi Io fino a me L'ho presa tutte le cassa Ma con quel robottino Già l'avevo saltata tutta Perché è impossibile C'è la cosa che Poi ti ringora Vuola Gesù Cristo Guarda qua Guarda qua Nata la volta Sto bug in merda Ma ogni volta Sembra a me Sembra a me Boh Ti è bugato Boh Ma guarda 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 come sei rimasto Guarda Vai su whatsapp Vai su whatsapp Ah si è sbloccato Con l'altro 8 Eh da me si vede bene Per ora si vede bene Con l'altro 8 No ma tu ne capisci Guarda il video Capisci altro Ma guarda che puoi sparare Lo so Eh sono caduto Ma perché non fai il dopo Cosato questa cosa Devi saltare proprio Ah non l'avevo presa Il checkpoint Non è male Ma il checkpoint Con il robottino Dov'è Eh un po' più avanti Devi andare un po' più avanti E vedi che dopo c'è Non è male che l'ho preso Che se non è di nuovo Dal capo Dovevo cominciare No al contrario Si C'è pure la maschera Dopo non è male Ma vabbè Mori subito No No Di nuovo come quella volta Fammo In questo punto Checkpoint No vabbè Ma il primo o il secondo checkpoint è presto? Il primo Manca la maschera Manca la maschera Manca Secondo checkpoint Non fa Va bene Eh vai Vai fino a quando No il secondo Il terzo checkpoint Quello Il secondo Con robottino E non finisce più Il colivello Scusami No guarda qua Impossibile Ce l'hanno messi a fare A ogni costo A questi livelli qua Che sono impossibili da fare Poi farei fatte sempre da qua Ma è vero Si vede in quel modo È vero Hai ragione Ma? Eh È impossibile Ogni poco cado Faccio un basso Salto bene Poi ne faccio un altro cado Perché ci sono quei cosi che si girano Devi aspettare che si girano Ma non si vede Finalmente Siamo riusciti a superare il livello 25 Però purtroppo c'era un piccolo bug Quindi abbiamo saltato direttamente la parte Abbiamo preso il cristallo E abbiamo convertito direttamente il livello Purtroppo il livello 17 e 25 di questo gioco Hanno questo problema Anche abbiamo provato a modificarlo In qualche modo Però Con tutti i settaggi nel mondo Fa sempre in questo modo Purtroppo non ci possiamo fare niente È l'emulatore Ok O la versione dell'emulatore Ok amo Finalmente siamo arrivati all'ultimo livello Che alla fine è un boss Quindi l'ultimo boss del gioco E abbiamo finito anche Crash Lira di Cortex Sei pronta? Pronto Che un po' mi mancherà Devo dire la verità Però Ok entriamo Sono contenta che A me non mi manca Andiamo Tempo di Crunch Di nostro Crunch Mi nervoso Mi ha fatto tutti i bug Un po' mi manca leva Congratulazioni Crash Puoi essere fiero di te stesso Non solo hai raccolto tutti i cristalli A velocità record Ma hai anche sconfitto gli elementali Permetti a me e Crunch Di essere i primi A congratularsi con te Riducendo in polpette Il tuo corpiciatolo di Bandicot Vieni a prendere quel che ti spetta Eh praticamente ci vogliono Ci vogliono uccidere Ci ringraziano di aver preso tutti i cristalli E però ci vogliono ringraziare Facendoci a brandelli Oddio Nel modo Ci sono molti modi Per ringraziare Come si fa? Oddio No sono già morto Come si fa? Dobbiamo scansare Ste palla di fuoco E i piselli di fuoco Eh ma lui non lo colpiamo mai Non è come lo colpiamo a lui Non ho capito come lo colpiamo poi No vabbè non ho capito come si colpisce Poi l'app lo puoi scansare 15 volte Basta che ne colpisce una E ricominci uno da cap Che palla Non ho capito come si scansa Cioè come si colpisce lui poi Non lo so Forse sempre sempre scansando Non lo so Perché non ci può nemmeno andare verso di lui Non ci fa andare Forse devo soltanto scansare Ma col bazooka forse mo Ma si prende il bazooka Non è che te la fa usare Sì te la fa usare E come si usa? Sì col bazooka Col bazooka devi farlo Ma come si usa? Devi prendere il premuto R1 E poi c'è col cerchio sparo E poi c'è col cerchio sparo R1 c'è E si nasconde Sì però dai non mira Come si fa impossibile Ma che l'ho colpito col bazooka? Ah con me era L1 Non erro Eh L1 scusami Ho colpito pure Cortex E io a lui ho colpito Ah ma c'è un'altra maschera No vabbè non ci posso credere No vabbè Ok colpito sei con due volte Scusa dove te lo dice? Ok Anche Cortex colpito No No E vabbè dai Ma che cazzo Ma ne è Gesù Cristo però Cominciamo Cortex Ho colpito Vabbè come cazzo hai fatto? Già Sì Vabbè tu comunque c'hai la fortuna proprio Vabbè ma c'è un'altra maschera Ma scusami quante volte lo devo colpire? Sì guarda là Ehi Eh Oh non ci posso credere No Ma ha ghiacciato No Di nuovo Sì Adesso la fine Devi colpire di più Ok l'ho colpito di nuovo Per correre più velocemente Ah abbiamo sbloccato la corsa veloce Questa è per le reliquie Per prendere le reliquie Come tutti i crash Vediamo che succede ma Caricami di ingorso Tin 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 Non puoi proprio lasciarmi vincere Ma cosa vuoi da me Stupido idiota Poverino Pensaci Cortex Anche se Crash ha raccolto tutti i cristalli Non ha ancora le gemme Con le gemme possiamo risuscitare le maschere per l'ultima volta E distruggere Bandicoat una volta per tutte Attenzione però Ha detto una cosa Il gioco è finito Però ha detto che Se Bandicoat recupera le gemme Possiamo far risuscitare le maschere cattive E provare a battere un'altra volta Quindi Mi viene come il dubbio che se noi prendiamo di nuovo tutte le gemme C'è un altro finale Non sappiamo ancora se ve lo porteremo Però sicuramente se proveremo a prendere tutte le gemme Lo faremo fuori video E poi magari vi porteremo Quest'altro finale Con un video dedicato Però per il momento la serie è conclusa Quindi grazie a tutti Se vi è piaciuto lasciate like Iscrivetevi E quindi Ciao a tutti da Tiger e da Crash Ciao a tutti